Buongiorno a tutti, oggi vi racconto la mia opera preferita della Carrara, La Madonna col bambino di Jacopo Bellini, esposta nella prima sala del museo. La delicatezza e la trasparenza dei colori mi danno un senso di infinita leggerezza, difficile da descrivere. Proverò quindi a farlo con una piccola poesia. In un attimo eterno e sospeso, il bambino è seduto, posato, sulla mano della madre. Pelle di cipria, guance di rosa e dolcezza infinita. Le lunghe dita sorreggono il corpo sottile del figlio, che, leggero come piuma di angelo, allunga il piccolo indice verso un usignolo dal melodioso canto. Se porgiamo l'orecchio, possiamo quasi sentirle quelle note d'amore, generatrici di vita, che uniscono, come filo invisibile, la mamma al suo bambino. Insieme a loro, entriamo nel mistero, sospesi in un tempo eterno di bellezza e amore.